Piazza Affari Archivi alla seduta in rialzo al termine di una giornata che si era già aperta con il segno più. L'indice Fonsi Mib segna un più 0,55%, quota 21.280 punti, mentre Fonsi Italia All Share guadagna lo 0,25% a 23.576 punti. In rialzo anche il Fonsi Star che mette a segno un rimbalzo dello 0,32% a quota 38.093 punti. A Milano, più cauta rispetto al resto dei mercati, gli acquisti sono tornati evidenti sul comparto bancario, bene anche gli industriali. Intanto lo spread fra BTB e Bunde Tedeschi chiude a quota 220 punti, con il rendimento del decennale al 2,68%. Fra i titoli del listino milanese, con il segno positivo fra i maggiori rialzi, Buzzi Unicem che guadagna 2,1 punti, ma il rialzo ha anche Exor, FCA, B per banca e Brembo. Fra i segni meno invece, in calo Prismian che cede 2,6 punti, ma il ribasso ha anche Italgas, Campari, A2A e Ferrari. Anche le altre principali borse europee archiviano gli scambi positive sulla scia dell'apertura in verde a Wall Street. Fra le piazze finanziarie, Parigi chiude a più 0,56%, Francoforte guadagna lo 0,50%, mentre Londra avanza dello 0,42%. A luglio, secondo i dati Istat, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisce dello 0,6% rispetto al mese precedente, dopo l'aumento congiunturale rilevato a giugno, più 1,7%. Nella media del trimestre maggio-luglio, per l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni, si osserva una crescita dell'1,7% rispetto al trimestre precedente. La variabilità dell'indice mensile, che ha contrassegnato finora il 2018, sembra tuttavia iscriversi in un quadro di lieve ripresa a partire dal secondo trimestre dell'anno. Nasce Generali Geniot, la nuova società 100% Generali Italia, dedicata allo sviluppo di servizi innovativi nell'ambito dell'Internet of Things e della Connected Insurance, legati alla mobilità urbana, alla casa intelligente, alla salute e al mondo del lavoro connesso. Generali Geniot offrirà soluzioni tecnologiche, che arricchiranno l'offerta assicurativa della compagnia, per aiutare famiglie e imprese nelle attività quotidiane, che vanno dall'auto connessa e geolocalizzata, agli assistenti virtuali per la casa intelligente, ai dispositivi digitali per il benessere personale, fino ai sensori che aiutano a prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro. Enel X, società del gruppo Enel dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, ha siglato un accordo che a partire da ottobre permetterà l'interoperabilità delle infrastrutture di ricarica di Enel X con quelle di Eway Byroute 220, azienda che offre servizi integrati per i possessori di veicoli elettrici. L'intesa consentirà ai clienti della app Eway di utilizzare le stazioni di ricarica di Enel X installate su tutto il territorio nazionale, accedendo alle informazioni relative alla localizzazione delle stazioni, la potenza disponibile, il tipo di presa e le modalità di accesso. Pirelli rinnova completamente Cyberfleet, il sistema per il monitoraggio e la gestione dei pneumatici delle flotte. Alla 67esima edizione dell'IAA Commercial Vehicles di Hanover 2018, la pilunga si presenta con la propria tecnologia Cyber, lanciando sul mercato la nuova generazione di soluzioni destinate alle flotte, Cyberfleet Smart e Cyberfleet Gate, entrambe pensate per ottimizzare i costi di gestione, aumentare la sicurezza e l'efficienza dei trasporti su gomma. Ridurre il fermo dei veicoli e le emissioni di CO2 si basano sulla tecnologia di comunicazione Bluetooth che ha permesso la semplificazione e velocizzazione dell'attività di monitoraggio dei pneumatici e non richiede alcun supporto hardware al bordo del veicolo. Grazie per la visione! Grazie per la visione!